Io sono venuto perché dovunque ci sia da discutere del futuro, dell'innovazione, un'innovazione che non è avulsa dal cambiamento della società, che quindi faccia i conti, faccia magari anche a punghi con la situazione politica, io ci vado sempre. Quindi mi interessava confrontarmi e farmi sentire e guardare in faccia chi viene a ascoltarci e a interloquire con noi perché questo è ciò che deve fare chiunque non voglia vivere nel mondo della comunicazione stando lassù sulla Torre d'Avorio.